Le attività d'indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, svolte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo, avevano già portato tra il maggio del 2018 e il giugno del 2022 all'emissione da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che aveva accolto le richieste della locale Procura della Repubblica di tre provvedimenti di sequestro beni a carico rispettivamente di Francesco Lombardo, Domenico Baglione e Francesco Loiacono. Gli odierni provvedimenti hanno consentito di confiscare per i primi due irrevocabilmente e per il terzo in primo grado un ingente patrimonio quantificabile in circa un milione di euro riconducibile a Cosa Nostra. Lombardo era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Argo con l'accusa di aver diretto la famiglia mafiosa di Altavilla Milicia, in particolare per aver coordinato le attività illecite nel settore delle estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali della zona, riportando una condanna di primo grado a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Il provvedimento di confisca irrevocabile ha riguardato beni per circa 500 mila euro entrati a far parte definitivamente del patrimonio dello Stato. Baglione invece era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Acocalisse con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Partanna Mondello, in particolare per aver curato la raccolta del pizzo nella zona di competenza, riportando una condanna di primo grado a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Il provvedimento di confisca irrevocabile ha riguardato beni del valore complessivo di circa 300 mila euro. Lo Iacono infine era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Talea con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo, in particolare per essere stato il mandante istigatore del danneggiamento avvenuto mediante l'incendio di sei autovetture custodite presso la sede della Autocar Service di Partinico, riportando una condanna di primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il provvedimento di confisca di primo grado ha riguardato beni del valore complessivo di circa 200 mila euro.